Il personaggio di Michele all'interno del film ha due momenti, il primo è un adolescente o un giovane uomo, più un adolescente, nel secondo lo vediamo completamente uomo e quindi il film mi ha dato un po' la possibilità di giocare su due personaggi, non dico completamente diversi perché ovviamente il filo ci deve essere, però come ognuno di noi si ricorda a 16 anni può essere una persona molto distante da quello che poi sei a 35, 40 quando cominci a essere un po' più nella società e nel mondo e quindi lo studio fatto è proprio stato quello di cercare di trovare una corrispondenza su due opposti perché comunque il Michele è molto giovane, un reverino, un discotecaro che appunto beve e si diverte molto volentieri e poi vediamo invece un uomo di 45 anni, 40 anni, molto serio, molto dedito al lavoro e all'interno di queste due figure anche un po' archetipiche era bello cercare di farle comunicare. Le persone dimenticano le cose brutte. In realtà una storia d'amore nasce con sguardi, poi oddio ci sono anche i colpi di fulmine, viene citato appunto il momento WTF, ci sono i produttori che ormai Netflix, ma chiunque ti chiede una sceneggiatura che abbia un momento in cui lo spettatore dice ma che cosa sta succedendo. A me non dispiace soprattutto se è calato nel mondo italiano, che non è che non sa come usare dei momenti di esplosione drammaturgica, però l'ha sempre fatto anche un po' in burletta, cioè prendendosi in giro, quindi in questo senso l'uomo sulla strada si prende sul serio in questo trauma, nel raccontare questo momento assurdo e anche nel, che giustifichi anche poi una sorta di storia d'amore strana, che è quella tra questi due, un amore impossibile, però appunto non mi dispiace, è un mezzo vecchio, che però se calato nella realtà italiana secondo me ha ancora senso. È un periodo fortunato, al momento sto girando una serie della BBC, Kidnapped, su un caso di cronaca è realmente accaduto nel 2017 in Italia, un rapimento di una modella inglese da parte di due sedicenti fotografi, slavi, che lei insomma è venuta a Milano, l'hanno rapita e hanno chiesto il riscatto al manager, grande caso di cronaca per i tabloidi inglesi, qua meno, soprattutto perché fu accusata di aver organizzato tutto lei, un po' no, perché sei la modella, hai 20 anni, ma sì, abbiamo capito che, poi in realtà sì, e io faccio il suo avvocato, giriamo a Manchester, contentissima, una di quelle dei prodotti mini serie inglese, scritta molto bene, la BBC comunque, un network di tutto rispetto, a settembre, no, deve uscire quest'autunno una serie che ho fatto l'anno scorso di Amazon UK, quindi sempre tutta roba inglese, in cui faccio un tennista, un berrettini, però con la svolta best, quindi che si droga, si alcolizza, campione assoluto, vince uno slam, il suo coach, che è il protagonista della serie, viene accusato di abuso sessuale, quindi vicenda del Me Too all'interno del mondo del tennis, un'altra serie unica, come dire, miniserie, e uscirà adesso in autunno, mentre in autunno, cioè settembre, comincerà a girare il film di Muccino, non posso dire niente, perché anzi mi hanno castigato, ma interessante, principalmente prodotto per il mercato americano, stiamo ancora capendo che sarà in americano, in inglese, in italiano, però insomma, questo è, sono contento ovviamente.